Sono Arcangelo Colonna, ginecologo presso il centro medico CTR di Reggio Emilia. I piccoli disturbi della sfera intima femminile, quali incontinenza urinaria, secchezza, atrofia, cicatrici postparto, dolore ai rapporti ed il lichen sclerosis, sono tutte condizioni che abbassano il livello qualitativo della vita di una donna, oltre che, in alcuni casi, pregiudicarne il regolare svolgimento e spesso avere implicazioni anche nella vita di coppia. Ad oggi esistono innovative metodiche e terapie mirate e non invasive a disposizione per il trattamento di questi disturbi, in maniera delicata e totalmente indolore, con effetti collaterali pari a zero. Sfruttando gli effetti della radiofrequenza combinata all'elettroporazione, possiamo ottenere ottimi risultati in termini di miglioramento della propria condizione di salute e qualità della vita. La radiofrequenza, in particolare il metodo Vagicombi, sfrutta la capacità del calore controllato di stimolare i fibrobasti a produrre collagene e permettere la riorganizzazione delle fibre di sostegno e la ripresa del tono muscolare. Mentre l'elettroporazione è una metodica che veicola alcuni tipi di farmaci e preparati utili nei tessuti profondamente, senza bisogno di usare agli. Di fatto, queste metodiche rappresentano la valida alternativa a metodi più invasivi, con semplici sedute della durata di 30 minuti con protocolli specifici per ogni patologia. Grazie per la visione!